Ciao a tutti ragazzi sono il piccolo ruby e questa è una nuova puntata di libri de mierda Di che cosa parliamo oggi? Ovviamente chi mi segue su facebook saprà che oggi parliamo di After di Anna Tud, la terza parte Allora, vorrei fare appello alla costituzione dicendo che la libertà è inviolabile Che ogni persona ha il diritto e il dovere di fare quel cavolo che vuole E che c'è la libertà di espressione, la libertà di parola e la libertà di fare quello che si vuole Allora, se dovete criticare questo video almeno fatelo con intelligenza Nel senso che metteteci la vostra faccia, io la mia ce la metto dicendo queste cose Voi un po' meno, no? Perché sennò passate per i bambini dell'asilo Ed è il perché io voglia spendere il mio tempo per leggere questi libri che secondo me fanno schifo Sono cavoli miei, punto Allora, qui vi lascio la recensione di Anna in the bed Lei è stata molto più concisa e molto più sintetica di me Io invece sono molto più cacciarone, molto più sboccato in alcune cose Molto bene Allora, dove eravamo rimasti? Allora, eravamo rimasti praticamente che c'era la nostra cara Tessa, il nostro caro Ardyn In questo negozio di tatuaggi Io ho sbagliato perché non è lei che si è fatto il tatuaggio ma è stato lui E dall'inizio del terzo volume apprendiamo anche che la nostra cara, il nostro caro Ardyn è nei guai Nel senso che ha fatto botte con Zed ma neanche fossimo nel medioevo E praticamente che cosa è successo? È successo che praticamente qualcuno li ha beccati e adesso lui deve andare davanti alla corte disciplinare Adesso non so i termini per decidere la sua espulsione Però ovviamente sapremo che non è così perché se il padre è il rettore dell'università Secondo te lo sbattono fuori a calci nel culo? Assolutamente no Molto bene E la nostra cara Anna Tud si è inventata un qualcosa Che cosa si è inventata? Si è inventata una carambata, no? Tipo caramba che sorpresa Cara Tessa Dall'Argentina Tuo padre È qui Mancava solo lei Poi era veramente una puntata di caramba che poracciata Allora praticamente il padre si trova lì nei parage È mezzo ubriaco, mezzo sfatto di qua e di là E lei decide di portarlo a casa E questo insomma dà un po' fastidio al nostro caro eroe Al nostro caro Ardyn Perché lui praticamente comincia a dire Lui è un ubriacone, lui ti farà soffrire Lui di qui, lui di lei, lui di l'era Perché lo perdoni Allora innanzitutto caro mio Lei ti ha perdonato delle cose Che se fosse stata un'altra dopo tre minuti Ti avrebbe mandato a cagare Primo Secondo l'idea dell'ubriacone Ma perché tu che cosa fai? Bevi solo frutta, succhi di frutta e analcolici? No tesoro mio quindi stai zitto Terzo è una cosa che deve riguardare lei e suo padre E tu devi stare solamente zitto Molto bene E il padre insomma gli dice Guarda io sono sparito per nove anni Di qua e di lei Lei ovviamente li presta soccorso Come farebbe chiunque Però visto che lui ha Non ha rispetto per nessuno Solamente ha rispetto per la sua persona e per il suo membro Tutto il resto va in secondo piano E arriva il giorno del plotone di esecuzione Lui si deve presentare davanti a questa corte Per rispondere appunto dei danni che ha fatto Perché si è menato con Zed che sbavava per tezza E lui entra Il padre dice No io non entro Perché sennò sarebbe conflitto di interessi Che roba Conflitto di interessi Ma se tu hai Hai corrotto metà dei componenti Adesso se entri in aula sarebbe Sarebbe conflitto di interessi Ma che cazzo stiamo dicendo? Vabbè lui non entra in aula E non entra in aula neanche lei Mentre lui è lì come un cane bastonato Lì mentre lui è come un cane bastonato Lei praticamente sta parlando con Zed E lo sta convincendo a non denunciarlo Però c'è un antefatto Prima mentre i due Lui Lui praticamente indossa solamente le t-shirt Perché oltre ad avere le dita a forma di hot dog Ha praticamente sempre le caldane Si vede che ci avrà dei livelli di testosterone talmente alti Che lo portano ad avere sempre caldo No non è andropausa E che cosa succede? Lei gli dice Vabbè non è che ti puoi presentare davanti alla corte Costituzionale con questa maglietta Mettiti e ammendare una camicia Non pretendendo di mettere che tu ti metti la cravatta Ma almeno mettiti la camicia Molto bene Lui si mette Lui si mette la camicia E dice una cosa che è veramente fuori dal mondo Allora lui praticamente comincia a dire Eh Tuo padre è ancora qui Il nostro appartamento Cos'è diventato una cosa Un ricovero per senza tetto E lei la guarda male Ovviamente lei non è che si impone No con lui dice Senti tesoro O ti va bene così O ti va bene cos'ha Quella è la porta Ne puoi anche andare E no ma ardi Ma mio padre Rimarrà qui per due giorni Non ti preoccupa Fa tutta la sottomessa del cazzo Allora E lui gli dice Guarda Non posso Dice Non po' C'è di là tuo padre Quindi non posso scoparti Per rilassarmi Per rilassarmi Che cosa? Non puoi scoparla Per rilassarti Amore mio Ma se tu ti vuoi rilassare Allora Puoi guardare la televisione Puoi fare un pisolino Puoi andare in palestra O puoi ricorrere alla tua mano Cioè Non c'è bisogno che Usi lei Come se fossi Solo un pezzo di cane Dove tu puoi infilare Il tuo membro E quindi sentirti più rilassato Tesoro mio Ma un po' di rispetto Ma Ma dov'è il rispetto? E lei non ha neanche Un po' di amor proprio Perché nel momento in cui Una persona ti dice Una cosa del genere Ne sfido chiunque donna Dopo una frase del genere A dire Le stesse parole Che ha detto Tessa La sua vulgarità mi eccita Che roba La sua vulgarità ti eccita Ma io prendo il comodino E te lo faccio ingoiare E te lo faccio anche cagare Il comodino Ma oh Ma il rispetto Dov'è? Il rispetto per la donna No E lei è ancora più deficiente Che sta questo gioco morboso A questo gioco squalido Perché non ha un po' di amor proprio Lei è talmente dipendente da lui Lui è diventata talmente una droga Che lei non può farne a meno Lei Lei Non può vivere È come se fosse una gabbia No? Voi immaginate Un uccellino Una gabbia Gli aprite la gabbia Ovviamente l'uccellino muore Perché ovvio Perché voglio dire Non ha la libertà Cioè non ha mai conosciuto la libertà E quindi non sa Come procurarsi del cibo Non sa assolutamente niente Lei è la stessa cosa Lei se nel momento in cui Si dovesse Staccare da Ardyn Lei Ritornerebbe a essere indipendente Ma è così Ma questo poi lo vedremo più avanti Allora E mentre lui Dicevo il donante Il problema di esecuzione Dopo che gli ha detto Quella Quella frase Ovviamente questa è una È una storia d'amore Ricordiamoci È una relazione Stabile Tra due persone È una cosa Pura E innocente Tra due persone Lei è fuori con Zed Che sta convincendo A non denunciarlo Perché ovviamente La verrà così massacrato di botte Lei dice Senti guarda Tu non devi denunciarlo Non Così Cos'è Cos'è Lui finita La cosa Esce fuori E incomincia Fa Una scenata Ma perché cosa Perché loro stanno parlando E lei dice No Tu mi stai parlando alle spalle Te lo vuoi portare a letto Te lo sei scopato Cosa avete fatto Cosa state dicendo Ma che cazzo stai dicendo Ragazzi Ma questo è da TSO Cioè lei vede Praticamente Un lei Che parla con un altro Di sesso maschile E lui va in visibilio Solo per così poco Perché lui pensa Chissà che cosa E lei dice Senti calmati tesoro mio Ma noi stiamo parlando Solamente del tempo Stiamo parlando Delle Delle babbucce Che aveva la signora Come è passata Ma oh Ma Ma Cioè Ma esiste una cosa Chiamata un reparto Psichiatrico Ragazzi miei Rendiamoci conto C'è A Zed Che non c'è Tripa per gatti Proprio gli dice Palesemente Anche se Secondo me Un triangolo amoroso Qui poteva Tirare un po' Sulla questione No Perché Che barba Sempre avevi Sti due Che litigano Che scopano Fanno pace Litigano Scopano E fanno pace Per due volumi Interi Ma basta Mettici anche un po' Di sale No Perché La Tud Usa questa struttura Allora Per tutto il romanzo Te la mena In tutte le salse Poi alla fine Fa l'exploit In modo che Può continuare La narrazione Come ha fatto Con il primo Con il secondo Con il terzo No Perché il terzo Finisce in una maniera Che poi vi dirò Allora Lui ritorna a casa E praticamente C'è ancora papino E lo deve Riaccompagnare Perché lui è un po' Stufo Perché lui è Il maschio Perdominante Il maschio Alfa E quindi non vuole Che qualcuno Gli tolga Il suo spazio vitale E non vuole neanche Che lui abbia Un contatto Con sua figlia Cioè lui È geloso Anche del padre Rendiamoci conto Del livello Di bassezza Di questo libro Molto bene E i due dove vanno Vanno al parco Da mangiare i piccioni Vanno al cinema Ma no Vanno al bar A ubriacarsi Ovviamente Perché l'alcol Deve essere una costante In tutto il romanzo E tra l'altro Poi incomincerà a bere Anche lei Che dopo Tanto così di vino Lei va in visibilio E vede unicorni Vede madonne Vede santi del paradiso Vanno in questo bar Lui incomincia a bere Il padre gli dice Eh no ma A me ricordi molto Io quando ero giovane Cioè io non l'avrei neanche detto Perché Se è un modo per vantarsi No Se è un modo per far Per far colpo su di lui Potevo usare anche altre terminologie E lui è un po' scocciato Finché arriva sta tizia Con questa amica Con la figlia Adesso non mi ricordo chi è E lui dice una cosa Che è ancora più offensiva Di quella di Voglio scoparti Per rilassarmi E dice Le avrei permesso Di farmi un pompino Nei bagni squallidi Di questo bar Cioè ma lei che cos'è Scusami Lei deve essere La schiava Che si deve inchinare Davanti al tuo membro Grosso così Cioè le avrei permesso Cioè le avresti preso la testa E le avresti fatto così Cioè ma che cos'è Lei una prostituta Lei praticamente Lei Lui con questa frase Ha definito Lei una puttana Ma oh Ma Un po' di Ma il rispetto Per le donne Dove sta Lui non ha rispetto Per niente Non ha rispetto Per le donne in generale Ma non ha rispetto Per la donna che la ama Perché l'amore Va a braccetto Con il rispetto Con la libertà Di Dell'altra persona Con lasciare i propri spazi Questa non è una storia d'amore Gente che ha definito Questa una bella storia d'amore È fuori di testa Non sa neanche Che cosa vuol dire Che cos'è una storia d'amore Tra due persone sane Questa non è Una relazione sana Dal semplice fatto Che lei non ha amiche Infatti A un certo punto Poi quando vanno a casa L'irritima Poi lui Allora per fare in modo Che lei non va a Seattle E qui Un'altra storia Allora Lei praticamente Nel primo o secondo volume Adesso non mi ricordo Va a lavorare A fare la stagista A fare la stagista Per questa casa editrice Ovviamente Il padre conosce Cani e Porci E quindi È un attimo Dopo due ore Che portava il caffè Faceva le fotocopie Gli dicono Tieni Prendi questo manoscritto Leggilo E vedi se può essere pubblicato Cioè dopo due ore Cioè magari c'è gente Che lì da vent'anni E fa ancora le fotocopie E fa ancora il caffè Lei dopo due ore Che lì Apprende tutto sto scibile Tutto sto coso E E gli danno Cioè da leggere i manoscritti Ma con quali competenze Scusate Cioè le chi è Per fare una cosa Quali competenze ha È una laureata Ha fatto carriera No Va bene E il capo Ovviamente come si chiama Christian Bene E allora gli dice Che la sede L'Avance A Avance Come mi fai un Avance Che cazzadino Me l'ha messo Va bene Deve trasferirsi In quale città Del globo Seattle Una città a caso Perché praticamente L'Athoud non sapeva Dove ha fatto trasferire Questa casa editrice Allora ha preso Una cartina Del mondo Ha chiuso gli occhi Ha fatto così Ha fatto così E' venuto fuori Seattle No ma questo non è Un riferimento Alle 50 sfumature No assolutamente Cioè se non era Un riferimento Lei poteva usare Qualche altra città Del pianeta Poteva usare La California Poteva usare New York Poteva usare Quel cavolo che volete Poteva usare Milano Brugheri O Lodi Invece no Ha usato Seattle E poi la gente No ma questo non è Un riferimento Alle 50 sfumature Non è una versione Young God Alle 50 sfumature Di grigio Lei ha usato Le cose a caso Perché lei fa Le cose alla cazzo Di cani Ragazzi ma che cosa Stiamo dicendo E di che cosa Stiamo parlando Cioè aiuto Bene E allora Ardino vuole andare A Seattle Per quale motivo Non si sa Cioè la Tud Praticamente lascia Le cose in sospeso Allora Lui nel primo volume C'ha questo Questo tatuaggio Sulla mano Sul polso Sul piede Sulla chiappa Non so dove c'era Ma E lei è incuriosita No perché dice Se lui non ha mai avuto Una storia seria Com'è che ha Questo cosa A forma di cuore Non si sa Cioè io speravo Che venisse approfondito Nel secondo volume Invece non approfondisce Un cazzo Cioè Lascio l'immaginazione Al lettore No tu immagina Immagina puoi No come la pubblicità Del fast web No tu devi immaginare Le cose Perché lui non vuole andare A Seattle Boh Non si sa Non si sa Non si sa se è mai Stato a Seattle Perché da quanto Ho appreso io Lui è stato Viveva in Inghilterra A Londra Poi la madre L'ha spedito Lì perché aveva Fato tutto il casino Con quella tizia Bla 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 È stato a Seattle Ci ha fatto un weekend Ha messo in cinta una Ha frequentato amicizia Ha frequentato lì Per un po' di tempo Questo non lo sapremo mai Sappiamo solamente Che lui non vuole andare A Seattle E' come se io vi dicessi A me non piacciono i pomodori E voi mi direte Per quale motivo Boh Non mi piacciono Cioè Proprio Risposta esaurante Molto bene E questa cosa Peserà un po' Su tutto il libro Infatti uno dei motivi Per cui litigano È proprio questo Bene Allora E lui che cosa fa No? Ha preso dei fumi dell'alco Dice Sposami Eh sì eh Perché ovviamente Firmiamo un contratto Dove dici Che tu sei di mia proprietà Perché lui non vede Il matrimonio Come un atto d'amore Tra due persone Che si amano Si rispettano Che vogliono condividere La vita insieme Lui vede il matrimonio Come una sorta Di contratto Dove dice che lei Appartiene a te E quindi lei deve fare Quello che dici Quello che dici tu Perché lui ovviamente Vuole che loro Vanno a vivere a Londra Ma lei non vuole Perché lei dice No io Questo è il mio futuro Tu Se vuoi bene Se no arrangiati Finalmente La tizia Si è svegliata D'altro cuore Ed è un po' Mezzo ubriaco Le chiede di sposarlo Boh Comunque dicevo Lei si accorge Di avere delle amiche Perché fino all'altro ieri Non sapeva neanche Dell'esistenza delle amiche Non le ha fatto neanche Una telefonata Neanche un messaggino Su whatsapp Adesso si ricorda Di avere delle amiche La cara amica Steph Che ricordiamo essere La L'amica distanza Dove vivevano Nel campus E a un certo punto Si parla di Molly che è la rivale Quella che si fa Tardin Si è fatta Zed Si è fatta Qui, qua e qua Si è fatta Tizio Cagli Sempronio Molto bene E lui Quando Quando le viene a sapere Perché comincia A tampinarla Con i messaggini Dove sei Cosa fai Con chi sei Di qua e di là E dice Guarda sono con Molly e Steph Qui E lui comincia a incazzarsi No vattene di lì Perché Per come Di qua e di là Eccetera eccetera E l'amica Ovviamente La 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 Tizia Molly Insomma si risente un po' Di questo fatto E dice Ah ma se avessi fatto io Ardyn Tesoro mio Adesso non c'è Va manco i mutande E dice Dice beh ma Adesso Stai con Ardyn Di qua e di là E lui fa cose Con la bocca Con quella bocca Fa delle cose Si però spara anche Tante minchiate E questa è una cosa grave Cioè sarà bravo A fargli alcuni Lingus Ma a sparare Minchiate E' proprio Il top Ecco quindi Se non Se usasse la Lingua Per dire cose Intelligenti E non offendere Le donne Piuttosto che fare Bene di alcuni Lingus Magari Bene E lui Incomincia a incazzarsi Perché dice Perché stai lì Cosa fai Cosa non fai Bla 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 E bla bla E l'amica Le organizza una festa Dice senti Visto che tu devi andare A Seattle Io ti organizzo Una bella festa Di qua e di là Una festa di addio Bla 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 E bla bla Molto bene Il fatto sta Che adesso La famiglia Bradford Va in vacanza Va in questa villa In questa mega villa Con 150 stanze 377 bagni 1486 tonnellate 6666 mattonelle La cosa La cucina Della Scavolini E la doccia Della Remail Molto bene Vanno in questa In questa cosa E lì Incomincia ancora La lite Ma perché Devono litigare Per questi due Allora Succede questo I genitori Vanno a trovare L'amico Del Di lui E quindi Dice staremo fuori Un paio di ore Sì vabbè Ho capito Ma dopo che hai Dopo un'ora Che hai raccontato Tutti i tuoi Birra Pong Tutte le tue Ubreacate Tutte le tue Ciulate Cosa avete da dire Cioè vi mettete a guardare Lì a colvento Due volte Non si sa E allora Lendo un poverino Dice io sto qua A reggere il moccolo Ovviamente va anche lui Se ne va E in questa casa C'è anche la jacuzzi E la jacuzzi No scusate L'idromassaggio Non so qual è la differenza Vabbè Che è praticamente Sul terrazzo E lui incomincia A spogliarsi Si entra Lei fa la pudica Si copre il seno Di qua e di là Perché Cioè scusami tesoro mio Cioè le hai aperto Le gambe a comando E adesso ti metti A fare la pudica A entrare dentro Una jacuzzi Su un terrazzo Ma vai affanculo Va tesoro mio Che sei una deficiente Inside out Proprio Vabbè Fatto sta che lei Lui la convince C'ha il C'ha il Il pirellone In In funzione E E praticamente Lei Si slaccia il reggiseno Poi fa la pudica Così si copre le tettine E entra Praticamente lui Le sfila le mutandine E lei si mette A cagnolino Lui incomincia A entrare Dentro di lei E dopo Circa mezz'ora Di Di Copulazio Si accorge Di non avere Il preservativo Oh cazzo Come non è il preservativo Perché Non c'ha neanche pensato Nella foglia del momento Lui esce Ovviamente E gli dice Guarda Ho dimicato il preservativo E lei dice Vabbè Vai Fa niente Ma si Dai Tanto Controllati Il coitus Interructus E lui Incomincia A accusare Lei Praticamente Di farsi mettere Incinta Per incastrarlo Cioè Amore mio Ma sei tu Che ti hai Dimenticato Il preservativo Non è che Lei ti ha detto Non metterlo Tesoro Vorrei che Fosse chiaro Questo Però Ovviamente Lui deve Sentire Far sentire La donna Colpevole Perché tutti I mali del mondo Dipendono Dalla donna Perché Il fatto Che lui Che lui abbia incominciato a bere È colpa sua È lei che le fa le menate È lui che tira fuori Questa parte animalesca In lei Perché prima era un agnellino Adesso è diventato Tipo La grande La grande Belva La grande Piovra Mamma mia Cioè Veramente Siamo fuori E lui Praticamente Comincia a litigare E incontra Statizia Che si chiama Lilian Lei dice subito Che è lesbica Che non Cetripa per gatti Che lei Gli piace la bistecca Al posto del Cetriolo E lui Vuole fare Ingelosire Lei Come i bambini Dell'asilo Si fanno i dispetti Come i bambini Dell'asilo Praticamente Vanno a questa Cena organizzata Da Max Che sarebbe Il padre di lei Che poi è L'amico Del padre Di Hardin Che si chiama Ken Ken e Karen E praticamente Vanno a questa festa Vanno a questa cena Lui comincia a farla Ingelosire Bla 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 E qui E là E lei esce fuori Esce fuori E praticamente Parla con Il cameriere Il cameriere Pare che sia sempre in pausa Sia lì per Per perdere del tempo Cominciano a parlare Cominciano a dire Guarda che tu sei bellissimo Di quale ci sta un po' a provare A lei dopo due bicchieri Due bicchieri grandi così Cioè dopo due dita di vino Vai in visibilio Hardin Vede questa Vede questa scena E gli prudono le mani Allora incomincia ad andare fuori E vuole massacrare Di botte il tipo Però il tipo Il nonno che era Per i meson Il padre Che è Chuck Norris La nonna Che era Xena Il cane Che è Cerbero E quindi Se me tocchi So cazzi tua E lui Insomma Se ne va Un po' La cosa tra le gambe Lei rimane lì A parlare con il tipo E lui se ne va Poi a parlare Con Se ne va a casa Dai poi incontrerà La La L'amorosa Di Di Della tizia Che poi secondo me Lui è anche un po' misogino No Perché questa povera Lilian No Questa povera disgraziata No Si è trovata A avere a che fa Con sto psicopatico No E lei vuole essere l'amica No Come mai Comincia a parlare E lui incomincia a dire Non rompere il cazzo Non fa qui Non fa lì Non fa là Ma cosa vuoi Cioè cerca di allontanarla Cioè Ma ragazzo mio Ma già trovi una Che devi ringraziare Tutti i santi del paradiso Che c'è una Che ti sopporta Come fidanzato Poi arriva una Che vuole essere Ti amiche E tu l'allontani anche Ma tu hai dei problemi Veramente Proprio da TSO Trattamento sanitario Obbligatorio Da camicia di forza E praticamente Vanno in questo bar Dove vanno al bar A bere ovviamente Perché la costante Di tutto il romanzo È il bere Poi arriverà anche La componente Della droga Perché questo romanzo Non si fa mancare niente Stupri Droga Stalking Non si fa mancare niente Poi questo è un libro Adatto per le ragazzine Facciamo leggere a loro Così diamo proprio Dei belli esempi Ovviamente Io non è che sto facendo Il pudico O sto facendo il moralista O sto facendo il femminista Sto solamente dicendo Che presentare Queste cose Presentare una relazione Così malata Ad una ragazzina È veramente Grave Ok È grave Secondo me Perché l'amore Non è quello Che viene descritto In questo romanzo Perché lui è un maschilista Di merda Lei è una sottomessa Del cazzo E la donna Non deve essere Proprio sottomessa E io non capisco Come la Tud Abbia la concezione Della donna Allora Per lei la donna Deve essere La casalinga Perché c'è la figura Di Karen Che sta a casa Che fa le torte Che amore mio Poi prende il bavero Gli asciuga la boccuccia Al suo uomo Di quale Deve essere casalinga E deve essere sottomessa All'uomo Cioè ma lei Dove ha vissuto Negli anni 50 Cioè ma lo sai Che la donna Adesso ha una dignità Che la donna Può scegliere o meno Se fare la casalinga Che la donna Può avere una carriera Che la donna Non è che deve essere Sottomessa all'uomo Io non so Che concezione Abbia la Tud Della donna Ma non è quella Che viene presentata qui Perché la Tud Sembra che sia Una maschilista Cioè io Non voglio smontare Questo libro Perché sono invidioso Del successo Che ha avuto la Tud Ma assolutamente No non me ne frega niente Ma ben venga Però almeno Scrivimi delle cose Che non sono offensive Anche a livello di trama A livello di scrittura La scrittura poi fa schifo Io non entro nel merito Perché non sono un laureato Ok Però Approfondicimi le cose Cioè Per esempio Lui perché Non vuole andare a Seattle Non si sa Cioè non accena neanche Al fatto che magari Lui abbia un segreto Che magari lui faccia No non si sa Lui non vuole andare a Seattle Per quale motivo Boh Perché gli gira così Ma perché Il rapporto col padre Non viene assolutamente approfondito Cioè non è che I due si mettono lì a parlare E dire Papà guarda Tutto ne sei andato Si succede Ma per due minuti Perché poi Tutto deve girare Intorno a Ardine e Tessa Cioè Lei non si Il padre e lei Non fanno un confronto vero Cioè lei non capisce Perché lui Ha incominciato a bere Non capisce perché Lui ha incominciato A fare determinate cose Non si capisce Farò solamente Un confronto Per dire Io Tua madre l'ho fatta soffrire Di qua di là Mi spiace Palle vai Blablabla Blablabla Cioè lei aiuta il padre Più che altro Per una questione di costriti Perché si sente In obbligo Ma non perché vuole recuperare Un rapporto con suo padre Non è che vuole Capire perché Quest'uomo L'ha abbandonata Assolutamente no Cioè lui Lei gli dà Un tetto Gli dà Un tetto Sopra la testa Un pranzo Un letto Un bagno E basta Ma Un confronto Tra i due Un confronto Che dice Guarda Io ho fatto Determinate cose Ma lui non si scusa neanche Cioè lui parla con Ardine Sì vabbè Che cazzo me ne frega Mettro di parla con tua figlia Amica con lui Vabbè Fatto sta che Vabbè Dove eravamo arrivasti Ah sì Vanno a bere Perché la costante del bere Ci deve essere sempre Ovviamente Perché l'alcolismo Non è un problema Le famiglie non vengono rovinate L'alcolismo L'alcolismo è una cosa figa Quando tu non sai dove andare Vai a bere A ubriacarti Cazzo vai a fare il cinema A vedere cosa Poi cazzo vai a fare una passeggiata Ma vai in uno squalido bar E bevi come una spugna E i due vanno in sto cosa Si incominciano a bere Ovviamente E E guarda caso Entra la testa Con il cameriere Marpione Entrano E ovviamente Lui Fa finta di niente Di qua e di là Eccetera eccetera E E lei dopo aver bevuto Due bicchieri di vino Tanto così di vino Ricordiamoci Incomincia a ballare sul tavolo A menarsi A dimenarsi Come una Come una Tutta lì Come le Le ragazze del coyote Agli Tutta lì così Con la lingua di fuori Tutta indemoniata Eccetera eccetera Lui un po' Si eccitano di questa cosa Molto bene Fatto sta che poi Alla fine La cara Famigliola Torna a casa E Incombe appunto Questa cosa Di Seattle Lui non vuole andare Lui non vuole andare Lei vuole andare Lui li rinfaccia anche Perché glielo dice Guarda che grazie a me Che tu sia lì Ma rinfacciaglielo anche Cioè voglio dire Se io amo una persona Ok Gli faccio un favore Gli Ma che sia in amore Che sia in amicizia Una persona a cui si tiene Che si fa comunque un favore Per aiutarla Tu non glielo devi poi rinfacciare Perché Non Perché non ci sta Cioè Secondo me fare del bene Ad una persona Aiutare una persona È fine a se stessa Cioè Non per avere un tornaconto O per chissà quale motivo Io l'ho fatto Perché ti amo Punto Cioè Dire una cosa del genere È proprio per il fatto Che lui Non ha rispetto di lei Che Che non Che non Che non l'ama Perché questo non è amore Cioè lui vuole possedere Le donne Lui le vuole possedere Come se fossero degli oggetti Se no Le avrebbe detto Una cosa del genere Se no Non gli avrebbe detto Che lui No ma io ti tengo Solo per scoparti Perché nessuno Nessuna Nessuno può scoparti Come me Ma ragazzo Ma che cazzo sei Ro così freddi Ma malattina calmata Che c'hai il pene grande così Poi Tra l'altro Ma stai zitto Ma perché devi fare Perché si deve comportare In questa maniera Cioè Io non riesco a capire Questa non è Una relazione sana E lui Non è figo Con questi comportamenti Perché è una persona Che ti tratta di merda È una persona Che deve essere Mandata a fanculo Che sia in amore Che sia in amicizia Che sia In conoscenza Perché il rispetto È la base Di qualsiasi rapporto Lui non ha rispetto Per nessuno Non ha rispetto Neanche per il padre di lei Ma ci rendiamo conto A dire Questo è un ubriacone Qui Che sta in casa mia Ti ha fatto soffrire Ma tu che Che diritto hai Ma sei geloso Anche di suo padre Cioè ma voi Allora vi faccio Questa domanda Care signore Donne Ragazze Ma voi accettereste Veramente un uomo Così al vostro fianco Come Ardyn Un uomo Che non vi dà I propri spazi Che non Non vuole che usciate Non vuole che abbiate Amici maschi Addirittura Poi tra l'altro C'è una scena Dove appunto Lei gli da due di pkz E gli dice Senti Tra me non c'è Tre papere gatti Lui Lui la telefona No Perché dice Ah la scrivania Mi fa ricordare Dove abbiamo scopato Dove tu mi hai preso In una maniera E io ho urlato Come una maiale In calore E poi alla fine Glielo deve dire Perché lei comunque Ha paura di lui Perché lei Lui barra tutto sul terrore Come il babà No il babà O barba blu Lei ha paura Che se fa qualcosa Lui può Può uscire fuori di Può uscire fuori di testa E gli dice Che lì è stato zed E no caccialo via Scusami Ma perché lo devo cacciare via Ma tu chi sei Che mi dai gli ordini a distanza Ma cosa sono io La tua schiava Che mi dai gli ordini Perché lui vuole una donna Non vuole una donna Vuole un robot Vuole una donna Che apre le gambe Al suo desiderio Vuole una donna Che dica sempre Sì 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 Come Tutta Sottomessa Che non abbia amici uomini Che deve Dipendere Se non respira E che Non respira Se non c'è lui Nei paraggi Ma Oh Ma cosa stiamo Cosa stiamo dicendo E lui dice No no Sì ne deve andare Vattene di qua di là Eccetera eccetera E zed poi sparirà Ma ritornerà Pena parte finale Bene Allora lei parte per Seattle Sta Per partire Sta per partire per Seattle Lei poi è stufa Perché dice In sei mesi Di qua di là Blablabla Blablabla Perché Per come Eccetera Io sono stufa Tu mi stai soffocando Ah ma l'hai scoperto adesso Cioè tu lo devi mandare a cagare Dopo la Dopo il primo capitolo Del primo romanzo E adesso ti sei accorta Che ti sta soffocando Che ti sta facendo Che ti sta Che è una relazione allogorante Cioè te ne sei accorta adesso Sveglia Cioè la principessa sul pisello Si è svegliata No facciamo un applauso Che si è svegliata E E gli dice Guarda io voglio i miei spazi Molto bene Quindi Io parto per Seattle E Perché Io devo Affrontare il mio lavoro Perché è il mio destino Quindi tu Se vuoi bene Però sappi che io comunque sono Sono esasperata Molto bene E vanno a sta festa Ovviamente Sta festa Di gente che non Non si cagava Da sei mesi Perché l'ultima volta Che è stato Sono passati Non dico un mese Ma qualche settimana Molto bene E lei Va in questa La cosa Sarcassica Fraternita Gente ubriaca Gente che fa giochi Da bambini dell'asilo E lei incomincia a bere Sto coso Incomincia a bere Sto di cuore Dentro c'è una droga Lei incomincia a perdere i sensi E praticamente C'è La storia di Dan E la Steph Che la portano in camera Perché lui Praticamente vuole Violentarla E la tizia Riprende il tutto Lei praticamente Non si muove Ma che cazzo di droga Ha preso Scusate Io non me ne intendo Non me ne intendo Di droga Però veramente C'è una droga Che praticamente Ti immobilizza Ma cos'è una Un estetico Una droga Che ha invitato La Tud Non si sa E allora E lì c'è anche Molly E sarà lei Poi a salvare il salvabile Allora poi Entra Zed Come il Guerriero Perché le donne Devono essere salvate Le donne sono Delle sciocche Ingenue Che si mettono Sempre nei guai E deve arrivare Il principe Sul cavallo Sul cavallo bianco Trotterellando Che la deve salvare Arriva Zed La prende La porta E la porta A casa della madre Molly Avvisardin Li va il sangue Al cervello Di qua di là Incomincia a vedere rosso Verde e giallo Tutti i colori Dell'arcobaleno Va nella confraternita Incomincia a menare Questo qui Patapim patapum patapere E va a casa di Landon Perché Perché spera Che sia ovviamente A casa sua Però Landon dice No guarda Che lei non è qui Sarà a casa di sua madre La madre Perché non sa Cagava neanche La madre Poi La madre Che continua Ma sempre Con sto Nate Ma scopatelo tu Nate Ma cosa continui Cioè La Praticamente la telefona Dice guarda Che è morta La nonna Di Dell'ameba Nate E lei dice Sì sì Lo chiamerò Lo chiamerò Però poi ovviamente Talmente presa da Ardine E tutto il mondo Tutto il suo mondo Gira intorno a Ardine Che ovviamente Si dimentica Di chiamarlo E lui al posto Di mandarla Seneramente a fanculo Cioè io non l'avrei Neanche voluta vedere Dopo come mi hai trattato E dopo tutto quello Che mi hai fatto Lui Sarà masochista Boh perché continua A dire Ciao Tessa Eccetera eccetera Vabbè Fatto sa che loro vanno Dalla madre La porta a casa Lei è mezza Mezza sfatta Non capisce più niente Ha le visioni Come Giovanna d'Arco Sente le voci Sente le voci Vede unicorni Che saltano Vola Mio mini pony E arriva Ardine Perché ovviamente Sta Scopre di qua di là Allora Allora Praticamente le dice Comincia a litigare Con sua madre Di qua di là E lui dice Guarda Alla fine Se lei si ricorda bene Se non si ricorda Non le dica Che io sono venuto qui Benissimo La mattina dopo Lei si Lei si 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 risveglia Rinsavisce E torna in se stessa No Come Come Lazzaro Dopo la risurrezione E E si ricorda appunto Che c'è Che c'è Ardine Che è stato lì Che le ha teso la mano Le ha accarezzato la fronte Eccetera Poi lui Lui Le riporta la macchina Le riporta la macchina Dalla 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 madre Si incazza Perché sta Sta bene Vede Nate Eccetera Eccetera Lui poi gli dice Che ha trovato Un'altra Santa Maria Guretti Eccetera Eccetera E lei ovviamente Sta per partire Per Seattle E parte per Seattle Città a caso Ovviamente Ricordiamoci Che è una città a caso Lui si chiama Christian Casualmente E' tutto un caso Casualmente Si è trovato a Seattle Così Per puro caso E Che cosa succede Ardine Incomincia ad avere Un confronto Con suo padre Il padre Ha avuto problemi Di alcolismo Ha abbandonato La madre L'ha fatta soffrire Eccetera Eccetera Ha avuto questi problemi E c'è stato Un confronto Con suo padre E gli dice Una cosa Che E' abbastanza Grave Allora Gli dice Che tutti i problemi Che lui ha avuto In età Adulta Sono dovuti Al fatto Che lui L'abbia Abbandonato Perché lui Poteva Poteva Comunque Essere Poteva Il padre Poteva insegnare Di determinate cose Eccetera Eccetera Sì Vabbè Ho capito Ma la madre Cioè La madre Allora Il padre è vero Che ha sbagliato Però non è che si può dare La colpa Di tutto quello che succede Ai propri genitori Cioè Se una persona È così È vero che dipende Anche da Io non sono uno psicologo È vero che dipende Anche comunque Da un fattore Ambientale No Del genitore Però voglio dire Il padre Ha le sue colpe Però non puoi Dire al padre Che comunque È colpa sua Se lui tratta male Le donne Perché qualcosa c'entra Cioè l'alcolismo Sì Ma anche lì Scusa Allora se tuo padre Faceva il mafioso Tu dovevi fare Il mafioso Anche tu Cioè dovevi Ripercorrere i passi Di tuo padre No La situazione di tuo padre Doveva farti Far diventare una persona Migliore Di quello che era Tuo padre E invece no Lui È una persona Che Che sta Che peggiora Ovviamente E poi Secondo me Così svilisce Anche la figura Della madre Perché io penso Che la madre Gli abbia insegnato I valori Degli insegnamenti Gli abbia insegnato Determinate cose Poi voglio dire Se tu sei Una testa di cazzo Lei non è che può Aperti il cranio E cambiarti il cervello E così Punto e basta E incominciano ad avvicinarsi Meno male Se ne è accorto Qualcuno Qualcuno Gli ha detto Perché pare Che lei Gli abbia regalato Un corso Di kitboxing E quindi Lui Alla fine È così No Lui Eccetera Si sfoga In quel modo E conosce anche L'esistenza Di una cosa Chiamata Masturbazione Meno male Forse l'avrà letto Su wikipedia O su google Come i modi Per il I cento modi Per rilassarsi Molto bene Lei a Seattle Contenta come Una pasqua Di qua e di là È contenta Del suo ufficio Adesso momentaneamente È a casa Di Christian Perché lui Il caro Hardin Le ha sabotato Anche tutti gli appartamenti Ovviamente Perché lei Si gli ha sabotato Tutti gli appartamenti E anche questo È stato un motivo Di incazzamento Di incazzamento Di robe Perché lui Lui figuriamoci Deve avere tutta la situazione Sotto controllo È ovvio che Lei deve fare Quello che dice lui No Perché lui è il maschio Alfa Lui è a quello Che non si può dire di no E quindi Le sta incominciando A sabotare Tutti i suoi piani Ed è stata Proprio quella La goccia Che ha fatto Traboccare il vaso Molto bene Quante volte L'ho detto Molto bene Tante Allora Lui L'azione di Kid Boxing E i due Incominciano A sentirsi Cioè Allora Cara mia Tu hai detto Che volevi I tuoi spazi E poi Continui a telefonarlo Vedi che proprio Sei malata Di lui Che tu hai bisogno Di lui Che lui Senza di te Non vi Perché lei Non ha una Personalità Sua Lei non è In grado Di stare Da sola Lei non è In grado Di pensare Con la sua Testa No perché L'immagine della donna È quella Una donna Che deve essere Sottomessa All'uomo Che deve Di fare Quello che dice Lei Che deve Essere Ai suoi comandi Ma cosa Lui non si migliora Lui praticamente Entra in questo Barato E basta Cioè io Veramente Non riesco A capire Tutte queste Dinamiche Io ho Veramente paura Per tutto Cioè io Sono veramente Schifato Io adesso Vedrò come va Avanti sta storia Perché sono Veramente curioso Di vedere Che cosa Adesso si inventa Dopo aver finito Un libro Con due Che fanno sesso Al telefono E lei Anche lì Che fa la pulica No ma io Non l'ho mai Fatto Di qua Perché lui No no Veramente ragazzi Veramente È una cosa Schifosa Lei è stata brava Perché ha usato Gli One Direction Come Spunto Per farci una Fanfiction E per farci E sapeva benissimo Che se vedevano Fanfiction Gli One Direction Tutti l'avrebbero letta Anche Soprattutto le fan Lei è stata Veramente Forba Però è veramente Svilente Adesso uscirà anche il film Tra l'altro Del primo Io spero che lo vietino Ai minori di 30 anni Perché veramente Con tutte le scene porno Che ci sono Ma anche molto spinte Non so Non so Bene Spero che questa puntata Vi sia piaciuta Questo mio delirio Fatemi sapere se l'avete letto Se non l'avete letto Se non l'avete letto Non leggetelo Perché io ve l'ho Presentato Io ovviamente Questa è una battuta Ricordiamoci Sennò vi dice Ah piccola roba Eccetera eccetera Io vi saluto E vi do appuntamento Alla prossima puntata Di Libri di Merda Ciao Ciao